Oggi più che mai, l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili, gli editori veri. Scegli la serietà. Questo messaggio fa capire una cosa. Attenti amici miei, non dovete fidarvi dell'informazione spazzatura. Informazione che danno dei professionisti. Buongiorno, presento questo messaggio a nome mio e di tutte le persone che compaiono alla fine di questo video. La tenaglia della censura sta per stringersi sulla rete e sulle voci della libera informazione. Ancora non si sono palesati in tutta la virulenza, ma i segnali ci sono già tutti. Questa voglia di censura si sta articolando su due fronti precisi e distinti. Il primo ramo della tenaglia è la legittimazione del cosiddetto giornalismo dei professionisti, ovvero l'informazione mainstream, come unica fonte valida per ricevere informazioni affidabili. Il secondo ramo della tenaglia è la delegittimazione uguale e contraria delle voci della libera informazione. Ora, stabiliamo intanto bene l'uso dei termini. Io la definisco libera informazione, che è un termine molto più ampio di controinformazione, perché noi in realtà siamo liberi. Noi viviamo praticamente solo di abbonamenti e di donazioni, e non dobbiamo rispondere a nessuno di quello che facciamo, se non al nostro pubblico che ci sostiene. Sulle televisioni nazionali non vedrete mai, ad esempio, una seria discussione approfondita sulla sicurezza dei vaccini, perché uno dei più grossi sponsor delle televisioni sono le case farmaceutiche, e alle case farmaceutiche ovviamente non fa piacere che si mette in discussione la sicurezza dei vaccini. Ecco perché da Fazio voi vedrete sempre soltanto Burioni, che pontifica a senso unico, ma non vedrete mai nessuno che gli fa un serio contraddittorio. Ne vedrete mai sulle televisioni, ad esempio, una seria discussione sulla potenziale pericolosità del 5G, perché un altro dei grossi sponsor delle televisioni sono le grandi multinazionali della telefonia, e a loro ovviamente non fa piacere che venga messa in discussione la sicurezza delle loro tecnologie. Attenzione, non sto dicendo necessariamente che i vaccini non siano sicuri o che il 5G sia sicuramente dannoso per la salute. Sto solo dicendo che discussioni vere, approfondite, con un vero contraddittorio su questi argomenti importantissimi per la nostra salute, in televisioni non le vedrete mai, perché le televisioni non sono libere, sono controllate dagli sponsor che gli pagano gli stipendi e i costi di produzione. Noi invece siamo liberi, possiamo fare tutte le interviste che vogliamo, possiamo fare tutti i dibattiti che vogliamo, e questo naturalmente dà molto fastidio a quelli che vorrebbero il controllo totale dell'informazione. Sono Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore, approvo questo messaggio. Marco Tosatti, giornalista, approvo questo messaggio. Sono Fulio Grimani, giornalista, scrittore, documentarista e inviato di guerra. Aderisco al 100% all'appello nel video di Massimo Mazzucco. Sono Tiziano Alterio, giornalista e scrittrice, e approvo questo messaggio. Sono Claudio Messora di bioblu.com e sottoscrivo in pieno l'appello di Massimo Mazzucco, uomo misurato, uomo saggio, uomo socratico, è il Socrate dell'informazione indipendente. Lo sottoscrivo soprattutto nella parte in cui ribadisce l'importanza dell'informazione libera e indipendente in una democrazia, perché non è più il momento, dato l'accerchiamento in atto, di essere tenui, di essere cauti. È il momento di uscire allo scoperto e gridare forte che siamo liberi. Lo dice l'articolo 21, lo dice la Costituzione, è liberi, vogliamo restare. Se dovessi prepararmi ad affrontare una fortissima crisi economica con l'intento di rilanciare il nostro Paese, quindi indebitarsi, ma mettere il meglio a disposizione economisti, politici, opinionisti, filosofi, di tutto quello che può stare in un argomento paragonabile a una ripresa di un'economia di guerra. Andiamo a pensare alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando poi i partiti, anche opposti, si sono uniti, hanno creato dei gioielli come la Costituzione, hanno ricostruito il Paese. Se dovessimo pensare a quello, avrei messo ad un tavolo tutte le forze politiche e sociali del Paese. Quindi tutti i partiti, ma anche gli economisti al di fuori, che mi sarei interessato a raccogliere delle idee in questo Paese. Quindi avrei sentito, avrei costituito un comitato molto largo, dove praticamente si va a raccogliere il meglio del nostro Paese. E questa era una strada. Se invece dovessi costruire un qualcosa di diverso, dettato da alcuni poteri, i soliti, che in tutti questi anni ognuno di noi si è raccontato nelle chat, quindi nella spazzatura in rete, compreso anche forze politiche, e per non fare nomi il Movimento 5 Stelle che ha il governo, e se quindi dovessi preparare uno tsunami paragonabile a un peggio di un monti sistema, quindi sino arrivare alle politiche che abbiamo visto in questi anni, quindi se io dovessi fare dei fortissimi tagli economici, e la prima cosa che dovrei preoccuparmi è quella di eliminare un certo tipo di voce. Eliminare una voce, la rete, azzettire l'informazione oggi non è una cosa impossibile. Basta prepararsi, magari con la scusa del coronavirus, a un controllo basato sulle fake news. E allora vediamo qualche fake news. Conte scrisse a un gran maestro pensare che Di Maio voleva denunciare i massuni. L'articolo scritto l'8-9 del 2019, aggiornato poi al 10-10-2019, che potete trovare su recnews.it. Il premier, incaricato Giuseppe Conte, nell'estate dello scorso anno, ha inviato una lettera di ringraziamento a una gran maestra massone, con tanto di carta bollata, con il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e busta ufficiale, in cui la destinataria viene definita Serenissimo Gran Maestro del Sovrano Ordine Massonico d'Italia. Lo testimonia? Un notiziario interno all'Ordine Generale degli antichi liberi accettati muratori. Ne dà notizia la stessa Barbara Embler, sorella di massimo grado all'interno della loggia di cui si sta dando conto. Per questione di tempo salto, massoni o profane, le massime istituzioni italiane si sono inchinate alle loggie. Che i politici prediligano indossare grembiuli anche quando sono lontani delle cucine non è un mistero. Quello che è poco usuale è che il rapporto venga in qualche modo istituzionalizzato a passi delle stanze in cui si dovrebbero fare l'interesse esclusivo dello Stato che, come si sa, non ammette l'esistenza di società segrete. Motivo per cui oggi le loggie, pur mantenendo rituali, gestualità, segni ed effigi di riconoscimento riservati, cercano di aprirsi e farsi conoscere dai profani. Ma quanto previsto dall'articolo 18 della Costituzione nella pur elastica interpretazione della legge Anselmi rimane un aspetto che Conte, l'avvocato con 12 pagine di curriculum, conosce senz'altro a mena dito. Ricapitolando, il primo governo Conte ha una delle loggie più importanti, ha fatto un bell'inchino ufficiale, lontano dalle sale con i pavimenti a sca e dai raduni non istituzionali, tanto da conversarci in missiva ufficiale. Lo stesso ha fatto Fico e Casellati. Pensare che il passato esecutivo doveva sconfiggere la massoneria. Ci sono tre candidati che ci hanno mentito. Non ci avevano detto di essere stati iscritti alla massoneria. Non solo li abbiamo espulsi dal movimento. Ma oggi vi voglio dire due cose. Una è che li denuncerò personalmente come capo politico del movimento per danno di immagine al Movimento 5 Stelle. Se tutte queste fake news che sto cavalcando fossero vere, cosa bisognerebbe fare? Forse cambiare governo? Ma andiamo avanti. Le fake news non finiscono qui. E allora vi voglio leggere un pezzettino di questa lettera che scrive Francesco Amodeo. Lettera Conte Task Force Governativa con membri di organizzazioni che odiano i popoli. Gentile Presidente del Consiglio Le scrivo il giorno di Pasqua perché una giornata di pace e di amore mi obbliga ad abbassare i toni e a rivolgermi a lei in maniera pacata. In questi giorni il suo governo ha annunciato la scelta di una Task Force Governativa un comitato di esperti guidati da Vittorio Colao che avrà il compito di accompagnare l'Italia verso la cosiddetta fase 2 dell'emergenza pandemica. Di concerto con il comitato tecnico scientifico la Task Force dovrà elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali economiche e produttive anche attraverso l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali come ha rimarcato lei stesso. La parola misure necessarie fa suonare in me un campanello d'allarme approfittando dallo stato di necessità spesso si costringono i popoli ad accettare misure che vanno contro i loro interessi ma che in situazioni ordinarie non avrebbero accettato mai. È la strategia delle shock economy preconizzata dai padri fondatori di quel pensiero neoliberista che oggi sta infettando l'Unione Europea creando più danni di qualsiasi pandemia. La teoria a cui si riferiva sicuramente Monti quando dichiarò abbiamo bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti perché i passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni delle parti di sovranità nazionale. Io credo che l'Europa che se ne dica si è comportata molto bene perché mi ricordo io ho iniziato a fare l'amministratore delegato nei giorni della crisi nel 2008 Lehman Brothers io non sapevo neanche quasi cos'era e mi sono trovato nel caos devo dire che mi ricordo quelli che dicevano l'Europa scompare l'euro collassa i paesi vanno tutti per la loro invece abbiamo dimostrato ancora che con questo meccanismo di decisione tutti assieme poco a poco si è gestita la Grecia si è gestita la crisi dell'Italia nel 2011 si sono gestiti le ristrutturazioni si sono fatte le operazioni di mercato per sostenere gli stati quindi dobbiamo anche essere contenti di come strutturalmente questo meccanismo europeo e quindi questa è la parte macroeconomica gestisce la lettera prosegue a capo della task force chattale vittorio collo vicepresidente della lobby europea round table of industrialists una lobby che in pochi conoscono ma a cui io ho dedicato il capitolo le lobby di bruxelles della mia inchiesta la matrix eur perché si tratta di una organizzazione nata per tutelare gli esclusivi interessi delle grandi multinazionali soprattutto straniere tra i membri di spicco oltre a colo troviamo infatti Peter Sutherland della Goldman Sachs la banca che nel 2011 attaccò l'italia ma troviamo anche il presidente del boulder bug lo spietato il cieng avignon questi sono gli ambienti che frequenta a colo alla european round table oltre alle grandi banche d'affari internazionali come la morgan stanley dalla quale proviene il capo della task force che lei ha istituito e che hanno sempre speculato nel nostro paese anzi tornando al boulder bug ho notato che il nome collo appare nelle liste di quella organizzazione per la prima volta proprio nel 2018 indovini insieme a chi insieme a mariana mazzucato altro personaggio che lei ha scelto per la task force governativa ora mi chiedo si è fatto suggerire da qualcuno o in quegli ambienti dell'alta finanza speculativa hanno davvero la sfera di cristallo se meno di due anni fa hanno convocato per la prima volta collo e mazzuccato e oggi se li ritrovano in una posizione per loro utile al governo italiano opto per la seconda risposta dato che a quella riunione con loro c'erano anche ursula von der leian poi poi diventata presidente della commissione europea e carlos michel poi diventato presidente del consiglio europeo l'anno prima c'era anche christine laggard diventata poi governatore della banca centrale europea quindi l'unica risposta attendibile è che questi speculatori internazionali abbiano davvero una sfera magica altrimenti dovremmo pensare che questi personaggi siano proprio loro ad imporli vi abbiamo dato soltanto un estratto e ho approfittato di una voce elettronica per via della pronuncia in inglese che non mi è il massimo la lettera vi consiglio di leggerla per intero la trovate nel sito di francescoamodeo.it il titolo è lettera aperta a conte task force governativa con membri di organizzazioni che odiano i popoli e questa è la sua pagina io mi faccio una domanda ma qualche anno fa il movimento 5 stelle non faceva un fortissimo attacco vediamo oggi stiamo discutendo una mozione che vuole mettere sotto la lente di ingrandimento i trattati che l'Italia ha siglato con l'Europa richiedendone una profonda modifica si tratta in sostanza di vincoli come il fiscal compact e il cosiddetto fondo salva stati che hanno come obiettivo apparente quello di diminuire il debito pubblico facendolo pagare ai cittadini debito che è stato generato da poteri forti quali le lobby finanziarie banchieri speculatori è una classe politica clientelare e parassita in realtà con il MES ci indebitiamo ulteriormente lo facciamo affinché qualora se ne presentasse la necessità l'organizzazione intergovernativa che dovrà gestire il fondo salva stati ci possa prestare a chissà quali tassi di interesse un po' di quello che abbiamo versato dal momento che per pagare la prima tranche del versamento dovremo fare dei debiti quel meccanismo non farà che indebitarci ulteriormente è lo strozzinaggio perpetuo ed il trattato che ha istituito il fondo è costruito in modo tale da permettere allo strozzino di fare qualsiasi cosa senza essere mai chiamato in giudizio per quello che fa un tassello importante per la dittatura europea sui popoli i quali saranno costretti a subire politiche di austerity sempre più rigide non già per rilanciare lo sviluppo sostenibile ma per pagare il fondo stesso le politiche di governance economica europea che ci stanno attuando e stromettono il cittadino dalle decisioni esautorando di fatto un Parlamento che serve solo a ratificare decisioni prese a Bruxelles con l'avalo dei governi compiacentemente asserviti di fatto abbiamo perduto buona parte della sovranità popolare delegandolo a strutture sovranazionali che a loro volta rispondono ai mercati quel che emerge è che mentre milioni di cittadini europei stanno pagando con la loro vita le politiche recessive imposte dall'Europa molte banche continuano ad arricchirsi giocando con le economie di interi paesi nel contempo la Troica Unione Europea BCE Fondo Monetario Internazionale chiedono all'Italia di cedere sovranità e di proseguire il processo di privatizzazioni avviato nei primi anni 90 durante i quali svendemmo interi asset strategici Telecom Italia Enel Eni sono solo alcuni esempi c'è qualcosa di losco in tutto questo chi sono gli attori che in questi anni hanno tradito i principi di comunità e solidarietà su cui i padri fondatori dell'Europa si ispirarono com'è possibile che l'Europa rappresenti ormai una dittatura finanziaria grazie alla regia di un club di banchieri tecnocrati quali sono gli intrecci tra politica istituzioni europee italiane e le banche si dice che siano gli uomini a fare la storia bene allora facciamo un po' di storia e un po' di nomi il primo è consulente della banca d'affari Goldman Sachs membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute Italia organizzazione americana finanziata anche dalla Rockefeller Brothers Fund che si pone come obiettivo quello di incoraggiare le leadership illuminate le idee e i valori senza tempo questo personaggio è stato uno degli artifici dell'ingresso all'Unione Monetaria Europea dell'Italia si tratta di un ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea il suo nome è Romano Prodi ora passiamo al direttore esecutivo della Banca Mondiale dal 1984 al 1990 è stato ortefice delle più importanti privatizzazioni delle aziende statali italiane avendo ricoperto diversi incarichi nel Ministero del Tesoro durante gli anni 90 è stato governatore della Banca d'Italia dal 2002 al 2005 è stato vicepresidente e membro della Management Committee Worldwide della Banca d'Affari Goldman Sachs ora è presidente dell'ente privato BCE Banca Centrale Europea nel 2013 è stato inserito tra le 100 persone più influenti del pianeta classifica redatta dal Time nella categoria Leaders ma lui non è un leader politico decide solamente la politica monetaria dell'Unione e autorizza le banche centrali dei paesi dell'area e dell'euro a emettere banconote poca roba insomma il suo nome è Mario Draghi ed infine il presidente dell'Università Bocconi nel 1995 diventa commissario europeo per il mercato interno nel 1999 viene confermato commissario europeo dal governo D'Alema che indica Romano Prodi come secondo rappresentante per la Commissione europea di cui lo stesso Prodi diviene presidente tra il 2005 e il 2011 è stato international advisor per Goldman Sachs anche egli membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute nel 2010 è divenuto presidente europeo della Commissione trilaterale gruppo di orientamento non liberista fondato nel 1973 da David Rockefeller e membro del comitato direttivo del Club Bilderberg da queste incariche si è dimesso il 24 novembre 2011 a seguito della nomina presidente del Consiglio della sedicesima legislatura durante la quale sono stati approvati provvedimenti come la ratifica ad accordi quali Fiscal Compact l'IDL costituzionale contenente il pareggio di bilancio in Costituzione il Fondo Salva Stati e la conseguente macelleria sociale del decreto Salva Italia il suo nome è Mario Monti questi sono solo alcuni nomi dei protagonisti della società italiana in ambito nazionale ed europeo tutti con ruoli importanti in Europa tutti inseriti in ambienti molto influenti tutti molto rispettati dai partiti tutti insegniti dell'onorificenza di cavalieri di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica Italiana tutti con un passato in Goldman Sachs Banca di investimenti americana che ha contribuito a innescare la crisi finanziaria del 2008 trascinando nel baratro le economie del mondo una banca dell'incora accusata di truffa è finita sotto inchiesta definita da un ex manager un ambiente tossico e distruttivo che considera i clienti dei pupazzi a cui vendere derivati avvelenati pensando unicamente al dio denaro questi cattivi maestri stanno lasciando una traccia indelebile sulla quale la politica di palazzo non riesce a far altro che seguire senza nemmeno provare ad alzare lo sguardo verso un'economia una politica ed una società diversa per incapacità o per complicità sarà la storia a giudicarlo con questa mozione proponiamo di restituire al Parlamento l'esercizio della sovranità sul proprio bilancio per non essere schiavi dell'Europa suggeriamo inoltre un'altra traccia un'inversione di tendenza rispetto ai dogmi della finanza e dei mercati che devono venire a meno rispetto all'economia reale che nasce dal valore oggettivo creato dalle persone e che per questo non può sottostare a qualunque vincolo finanziario ed economico grazie naturalmente le fake news sono tante potrei stare qui e allencarvi per altre ore quello che sta accadendo di sicuro quello che dobbiamo fare è attenzione molta attenzione a farci prendere da strani entusiasmi tra qualche mese potremo trovarci in una situazione gravissima dove la gestione del potere sarà importante e a giudicare dalle persone scelte in questa task force io un minimo di preoccupazione ce l'ho non so voi criticatemi pure adesso anch'io ho detto le mie fake news grazie grazie